Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Giuseppe e oggi siamo tornati su Cat Mario 3 Prima cosa da dire prima di iniziare a giocare Praticamente ho appena pubblicato circa mezz'ora fa Cleverbot, l'intelligenza artificiale, scusate per il rumore Però mi sono scordato di ingrandire l'obiettivo Perché infatti appena sono andato a vedere il video è uscito proprio male, tutto sfocato Quindi quello lo elimino e al posto di quello metto Cat Mario di nuovo Però ragazzi vi dico consigliatemi dei giochi perché non so veramente che cosa fare E niente, dopo questo possiamo continuare con questa roba Vai Vai, ok perfetto Quindi ho dovuto ricominciare tutta la partita dall'inizio e arrivare fino a qui L'altro tanto praticamente l'avevamo quasi finito La stavamo E vabbè sono arrivato direttamente qua Non so come sono riuscito ma ci sono riuscito Comunque sia vi dico Esiste un tasto che ti può far cambiare lo stage Ma vi giuro che io non l'ho premuto perché non mi sembrava affatto giusto E quindi non l'ho fatto Anche se avrei tanto voluto farlo Ma vabbè Noi dobbiamo adeguarci Ok perfetto Ok Madonna santissima Comunque ragazzi Forse avete notato che certe volte nei giochi che faccio tipo su motori E anche in clever bot C'è il lag purtroppo E forse alla crescima avrò un computer molto più potente Perché questo quando l'ho comprato circa tre anni fa Era veloce Cioè non dava problemi E A quell'epoca tre anni fa non mi interessava tanto registrare YouTube Mi interessava solo giocare e basta E E Niente Avrei dovuto pensarci tre anni fa di iniziare a fare i video Però Non posso Ecco perché io registro con la Tubecatcher Se no Se uso Camtasia Lagga ancora di più Io tengo Camtasia Studio 8 Potrei usare solo per editare E Cioè Quindi modificare un po' Però Mi sa che Sarebbe Uscirebbe male Purtroppo Per ora mi devo adeguare così Ma se avrò forse Ma se avrò forse Se avrò il computer alla crescima Quindi a settembre la faccio E Avrò un computer fisso Quindi potente Se avete notato bene A me invece un computer portatile Della Acer Windows 7 Professional E vi giuro Era Veramente buono Come computer Poi non so perché Non so perché Ma Si incomincia a rallentare Ma Di solito Tutti i computer Fanno così Dopo un po' di tempo Giustamente Non può Vivere per sempre Un computer E dopo 3 o 4 anni Inizia ad andarsene Diciamo E Niente Vabbè Ci siamo distretti sul gioco Scusate E In genere Io queste cose Dovei tagliarle Usando Sony Vegas Pro Però siccome Non ho bene Sony Vegas Pro Non so neanche se Con Camtasia Si può fare Ma devo vedere Però devo registrare Con Camtasia E ci ho provato Ma mi registra Mi fa l'eco Della voce Non so perché Quindi io Continuo con Atopcatcher Purtroppo Ok No Non mi prendete Stronzi Su Cattie Stronzo Ok Pensavo che Non mi prendesse Quel figlio Di me D'altro Fammi stare zitto Se non mi sto zitto Io qua Inizio a dire di tutto Tiè Suka Tiè Tiè Puppa Puppa Me l'imposa Muagagna Se No Tu non mi prendi Avete finito Di rompere Le palle Ok Perfetto Qui Ecco Lo sapevo Chi è Suka Che posso Non vedo l'ora di finire questo Kate Mario e anche l'altro Madonna santissima Ma me ne dimentico Me ne dimentico Sono così impedito Affanculo E se che cazzo Avete finito? Perfetto Me ne scordo Me ne scordo Me ne scordo Non posso crederci Ho quattro volte Tra una quattro volte di fila l'ho fatto e continuo a farlo Ma vaffanculo Tiè Suka Me ne ho già dimenticato di nuovo Mortacci tua No cazzo 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 Sì Tiè tiè Non ce la farei mai Suka Suka Stronzo Non ce la farei mai Andiamo avanti Che cacchio Comunque Ragazzi Mi continuo a dire Consigliatemi dei giochi Perché non so cosa fare Oltre ai pokemon C'è dei giochi leggeri Che mi potete consigliare Perché se avete notato Se avete notato un po' bene Diciamo che sto Un po' copiando Favij Perché Seguo tanti sui giochi E a quelli Mi sono ispirato Però non so che altri giochi scegliere Consigliatemi dei giochi leggeri Da fare Io li faccio Volentieri Però Dovete dirmelo Ok Perché io non sapevo Prima non Non mi interessava tanto youtube E Non mi interessava E Non mi sono mai Non mi sono mai Non sono mai sceso Nel Nell'interesse Nel particolare Quindi M'avrei voluto Già iniziare Da tanto tempo A fare E registrare Solo Ma Dico che Ritengo complicato Un po' Modificare il video Perché se ogni Vegas Pro Non ci capisco niente Sinceramente Io so risolvere I problemi Ai computer Però So tutto A parte Registrare Un video E per questo Che ho usato Un catcher Che Diciamo che Anche se Non è Non è Da crackare E Vabbè Camtasia l'ho crackato Studio Camtasia studio 8 Però Mi fa l'eco E quindi Non posso giocarci Io se qua Riuscissi ad andare Un pochino avanti Sarebbe La fine del mondo Cazzo Cazzo Mi dovrei fermare qui No Dai Continuiamo Una troppo Cazzo 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 Basta Io Voci Dinuncio Grazie Raga E straziante Perlomeno Cat Mario Cioè Super Mario È Impegnativo Ma questo qua Molto Ma molto Di più Che poi Non ho manco Uno scopo Cioè Alla fine Muori Questo Cazzo Vabbè Io non ce la faccio Cazzo Non ce la faccio È troppo impossibile È impossibile Madonna No Cazzo Cazzo Guarda Sei Chi è Chi è Stronzo Suka Vaffanculo Va Vabbè Ragazzi Io Direi di concludere Qui l'episodio Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Anche la pagina Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi E noi ci rivediamo In un prossimo video Bella ragazzi